Signore, signore, grazie, grazie innanzitutto, grazie di tutto, grazie a questa possibilità, possibilità di esprimere un voto veramente importante di una persona che... Questo è un altro problema che sicuramente affronteremo il Paese. Signore, signore, Francesco, dottor Francesco Avanzini. Buonasera. Buonasera, grazie, dottor Francesco Avanzini. Ebbene, siamo questa eminenti elezione, prossima candidatura, Salso ha bisogno di... Di cosa ha bisogno, dottor Avanzini, Salso Maggiore Terraneo? Tabbiano e Salso Maggiore, nati dalle acque, il loro destino è legato alle acque, un dono del cielo per il bene di tutti. È necessario proseguire, possibilmente avviare un nuovo processo di privatizzazione dell'azienda terraneo, vigilando innanzitutto sulle reali volontà dell'acquirente e assecondando progetti che comportino il rilancio e la valorizzazione dell'intero Paese. Attrarre investitori che realizzino, oltre al profitto personale, opere che vadano a vantaggio di tutta la comunità e poi in grande attenzione alla protezione della miniera, che deve continuare a rimanere un bene di tutti. Non si potrebbero sfruttare anche le risorse naturali, non è venuto qualcosa che possa effettivamente dare un incremento e una possibilità in più per questo posto a Pemerica, veramente tutto in bene. Guardi, l'eolico non ci porta l'acqua, quello che ci porta l'acqua sono le piogge, per cui diciamo alla fine, Salso, Tabbiani, risorgete dalle acque. E' quello che volevamo sentire, è quello che volevamo sentire, ma noi non ci accontentiamo perché noi siamo un po' ormai un po' difficolti, siamo un po' come dire...